Ciao ragazzuoli sono Grax e bentornati su Brawl Stars ed eccoci qua finalmente with Franci due episodi consecutivi Gliel'avevo promesso perché ragazzuoli oggi è l'ultima possibilità L'ultimo giorno per acquistare le skin di Halloween e io non posso lasciarmi sfuggire Piper Calavera Calamara Calamita ci sono una marea di nomignoli l'abbiamo chiamata in tutti i modi fatemi sapere il vostro preferito qui sotto nei commenti La shopperemo perché questa è una delle tre skin che non torneranno mai più nel game oggi o mai più Ora vedete un giorno 8 ore ma quando uscirà sarà meno di un giorno e domani mattina scomparirà insieme a tutte le mappe di Halloween Insieme alla home con la musichetta particolare insieme all'evento di Halloween non possiamo lasciarcela sfuggire E vi ricordo boys oltre che lasciare un like per altri video speciali insieme a Franci per altre shoppate Quanti like? 20.000 Si può fare Iscrivetevi al primo e al secondo canale Ma soprattutto utilizzate il codice creatore Grax al secondo link lo potete inserire automaticamente potete in questo modo supportarmi indirettamente all'interno del game Se shoppate le skin di Halloween taggatemi su Instagram con degli screen oppure delle mini clip che io ve le riposto nelle storie Instagrax non potete sbagliare c'è anche questo in descrizione Vado a shoppare l'ultima che mi rimane dopodiché l'ho shoppato tutto Quindi chi c'era scusa? C'era leon lupetto chihuahua Paiver Calamaro e Shelly streghetta Le ho tutte e tre e Franci non ce n'è neanche una La testeremo insieme e attenzione perché possiamo forse con Franci è un'impresa incredibile portarla per la prima volta è bellissima al grado 25 Siamo a 735 Ce la faremo? Una grande responsabilità Seguite tutto quanto L'episodio lo vado ad impostare dove è ovviamente il primo brawler perché quello che ha più coppe è bella Franci È veramente bella Ne vale la pena 80 gemme Taggatemi su Instagram Io ve lo dico ragazzi sarà impossibile giocare perché io posso giocare solamente sull'iPad e guardate il riguadro quanto è piccolo della webcam Faremo cose La cosa positiva è che abbiamo una mappa molto molto buona per Piper Vedremo Franci devi mettercelano tutta Quello che viene dopo proprio devi spaccare tutto E colgo l'occasione ragazzi per dirvi una cosa molto importante per fare un annuncio importantissimo Cominciate a spargere la voce perché finalmente abbiamo delle info riguardanti il torneo mondiale di Brawl Stars Due giornate venerdì e sabato di questa settimana alle 13 quindi alle 1 di pomeriggio sul mio channel Non potete mancare saranno due live Pazzesche in compagna di Nemossetto Intanto provo a colpire quella Shelly io non so come io stia giocando però vabbè Sono dettagli il paura però abbiamo preso Franci esci magari prendiamo una seconda posizione chi lo sa Ho colpito Shelly Magari la prima chi lo sa Tu dici eh sei così fiduciosa delle potenzialità di Crax e di questa Piper Calamaro che è meravigliosa boys è troppo bella Fatemi sapere sempre con un commentino se ci sarete a vedere il torneo mondiale dove ci saranno i migliori player No Franci ok già ho capito che Leone ci ha graziato Leone ha visto il Calamaro e ha detto ok forse è meglio se la lascio stare Devo ovviamente jumpar a una certa siamo ancora 5 team Guarda che regaletto No Non per te Maledetta Ecco il regaletto per me Questo finalmente si Allora De Franci rimani safe e io provo a fare dei colpi dalla distanza di quelli top Ok Ma 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 E' un problema soprattutto se Tara ha Ok 6.000 E' un problema ragazzi se Tara Ok Vai tranquilla vai tranquilla lasciala a me Preso io Se Tara aveva la ultima non ce l'ha Perfetto Colpo per il Corvo 44 Questa è sfiga però regà eh Questa è sfiga fatemelo dire Vi prego Permettetemi di dire questo perché questo è veramente un botto De sfiga Occhio a Leone Deve andare giù Leone Già un 0 coppe ti dico che volo Cioè volo veramente un botto Franci Non potrai mai essere Io non ho ucciso nessuno sono morta solo Un più 7 ma io sto facendo cose Franci preparati Io sto facendo veramente delle cose Importante è farle Occhio più 8 0 coppe perse credo No Shelly Sta arrivando Shelly Aspetta eh Te rinasci Quindi sei immune Posso anche spostarmi leggermente Dimmi Rimani sopra Rimani sopra No andata ragazzi 0 coppe perse Va bene Va bene Come inizio è buono Sono 15 coppe da fare Ci ho detto un po' male all'inizio Ho fatto dei colpi Ce la metto tutta Per fare il grado 25 Il grado verde Ti prego Un High Five Dobbiamo motivarci Franci Forza Ce la puoi fare Una ve l'ho tagliata ragazzi Imbarazzante Tornando al discorso del torneo mondiale Non so se ve lo ricordate Ma il primo team Quello che vince il campionato mondiale Cioè le finalissime in Corea Si porta a casa 250.000 dollari Boys 250 Fischioni Io ve la butto là Due spicci Si 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 Ma proprio Un price pull abbastanza povero Per un gioco mobile Cosa già fatta Per il torneo di Royal Dovrei essere morto No Franci Vieni da me Te prego Prendi il succo Prendi il succo Si Vai Tutto per te Adesso vai a fare un po' di macella al centro Magari io ti difendo Dalla distanza Non credo sia Un'ottima cosa Bella per Sandy Dove ammazzata Ems Ems Buona Ems Prisa C'è Pocho però Dammi una mano su Pocho Vai Si è curato maledetto Dovrei fare un colpo raga Devo provare a colpirlo Siamo messi benissimo Franci eh Siamo messi veramente in maniera perfetta Sette power up Non buttiamoci però verso il centro Perché potrebbe spawnare qualcuno Ma dove vai Corbaccio maledetto Dove vuoi andare Prendi il power up che è importante Lo prendo io Arriva qualcuno con il succo Non più Hai visto che combo abbiamo fatto Hai visto che t'ho fatto Aspetta che non evita Non entrare Non entrare 4 team Abbiamo 20 power up totali Colpo sul corvo Corvo che va giù Occhio ne nasce un altro Eh ti mangia Esatto Immaginavo Adesso un prova perché Loro proveranno a prendere sicuramente i power ups Io sono messo bene Ho 12 power up Ma se arriva qualcuno ragazzi col succo Posso jumpare una volta Vediamo un po' come va Con calma Con calma Grax Sfodera la tua calavera Fai vedere di che pasta è fatta Di che ossa è fatta Attenzione Sì Corvo sta al centro Servirebbe un succo per te Fran Non ci sarebbe Perfect C'ho pure il corvo che jumpa a destra Ottimo Corvo versus corvo Rinasce un brawler Se va giù quel brawler Più 7 Attenzione No vabbè No vabbè No vabbè The best piper in the world The best piper in the world Più 7 Prendi te che c'è la ulti Voglio far la pinera French Raga Ulti Ulti in alto Ammazza Ma questo più 9 Vai Siamo stati fortissimi A quanto andiamo però adesso 37 Sono due seconde posizioni Non succede Ma se succede 30.000 like Ci conto Spawn in basso a destra Non è male Io prendo subito questa ragazzi Però è contesa Maledetto corvo Certo se riuscissi a colpirlo Gli farei Un bel 2000 Sul muso Sul becco Preso Occhio al becco del corvo Dove sta? Guarda come fugge il corvo Guarda come fugge Aia Il genio Il genio Prendi quello Scappa Preso il genio Via Fuga 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 Su Instagram ragazzi Mi sono dimenticato Iscrivetevi Giustamente Anche al polpiro di Franci Ecco Cosa importantissima Perché se no vi perdete le storie Tutti quanti i vari spam per il torneo Poi se vi perdete il torneo Sono cavolette amari Altra cosa Magari venerdì Molti escono Oltre le una da scuola Non è un problema ragazzi Tanto ci sarà tutto il pre-torneo C'è tempo E soprattutto I best team Le migliori partite Saranno verso La parte finale Della streaming Potete gioinare in qualsiasi momento Non ci sta dando neanche un succo Franci Veniamo da un più un nove Dove vai? Vieni qua Falli Fedare tra di loro Il tick No 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 Franci Dove stai andando Please Come here No il Mortis Non deve venire da me Mortis vai a pushare Non devo Destare sospetti Devo ovviamente Non farmi vedere Calmi 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 Please Stealth Piper Calamaro Ok Il genio può prenderci Ricordati questo Dobbiamo camperare la Franci Dobbiamo sperare che il gioco ci disseti Zero coppe perse Buono E ora attiviamoci Nel senso Dobbiamo fare il giro In modo tale che l'altro team Pushi l'altro Genitore 1 Genitore 2 Team 1 Pushi team 2 E non team Grax Esattamente Vieni da me Guarda che li schiacciamo Guarda che facciamo il sandwich Mi lagga Prendi il succo te Mine Che io magari posso jumparmela Vai Mortis Ma sei un Mortis E beccate il più Sette Beccate Genitore 1 Genitore 2 1 2 2 Seconda posizione Non succede perché è impossibile Sono un Marta Ma io sono Grax Sono una Viper Una Calamera Calamera No sono morto GG Però Franci Forse ce la facciamo 744 Fare le 7.50 con Franci è un miraggio Io ci provo Ma sono stata brava Bravissima La cosa bella È che siamo entrambi brawler di livello 7 Uh Jesse Attenta eh Io ti colpisco dalla distanza Prendi il volo Ci ha dato 2 power up Non è malvagissimo Però Jesse Sta nella parte alta E se la predittiamo Non sarebbe male Non ho preso Mortis Occhia Bull Occhia Bull Colpito Ottimo Altro pezzo di ulti caricata Vieni da me Vieni da me Che c'è Mortis E vuole pusharmi Eccolo là Sta nel monologale E immaginavo Occhio No no vattene vieni sotto Vieni sotto Con calma Basta a sinistra Basta a sinistra Non pushare la destra Dobbiamo aspettare ragazzi Dobbiamo essere pazienti Troppo a sinistra Basta monologale lì Te metti lì E nessuno ti vede Dobbiamo essere pazienti Anche questa ragazzi È una partita Di totale camper E bisogna colpire Al momento giusto Però davvero Sponsorizzare Una Viper Calavera Con il grado 25 Con Franci Che ha 300 coppe Che non sapeva neanche Che Shelly Facesse più danno Da vicino Non lo sapevo Sarebbe la cosa Più incredibile Di sempre E ora Serve La miglior camperata Di sempre Grax Smaterializzati Come Thanos Te prego Non esiste più Grax Mantello di invisibilità Per tutto il tempo Sarà il camper Più incredibile Più lungo Della storia Del camper Della mia vita Uh Quel bull Con la ulti Potrebbe addirittura Aggiunare la nostra faccia Ma Ottimo Guarda lì Grazialo con amore Grazialo con amore Franci Vai Un altro colpetto Ma che è Oh Ma che è L'angolo delle meraviglie Questo Sono morta Zero coppe perse Va bene Io prendo questo Regà così Ho un bel bustino Dov'è Jesse Where is Jesse C'è un bull Pazzesco Vado sotto Blondi Raga Forse lo facciamo Oddio quello saprà Mino Vai a prenderlo Corri Franci Che ci permetti Di fare la win Corvo da 12 È impossibile È impossibile Dai Franci sono Sono morta 751 coppe Ma stiamo scherzando Quando sei soddisfatto Ma un bot Io sono partito Con le aspettative Bassissime Asfaltate 400 punti stellari Hai visto? Non l'avevo mai fatto 15.160 coppe Il record Non ho visto Vabbè L'effetto dei punti stellari Quasi 25.000 punti stellari Illegale Raga Io vi chiedo Un pollicione Vi ricordo Di inserire assolutamente Il codice Crax All'interno del shop Se volete shoppare Per l'ultima giornata Possibile Le skin di Halloween Che ripeto Non torneranno più Perché hanno questo badge Speciale Tu lo sai che c'hanno Un badge speciale Guarda che badge hanno Io non trovo Viper Ma è la prima Skin di Brawl Win Sicuramente non tornano Fino all'anno prossimo Il prossimo Halloween Forse le rimetteranno Tra un anno Ma non è detto Parole di Ryan Community manager Di Brawl Stars Io vi chiedo Un pollicione Iscrivetevi al primo Al secondo morale Perché ci sarà Anche la sede di potere Vi mando un bacio Salutiamo Franci Ciao E al prossimo Brawler grado 25 Instagram Sempre con Franci E Franci su Instagram Ciao